Il Movimento 5 Stelle San Cataldo ha presentato un'istanza ai commissari che da qualche mese amministrano il Comune San Cataldese chiedendo di porre rimedio alla carenza di decoro e igiene ambientale, soprattutto al cimitero della cittadina. Il Movimento infatti denuncia, foto alla mano, l'invasione delle erbacce al Camposanto che sono talmente alte e folte da impedire una netta visione di croci e date sulle lapidi. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Movimento San Cataldese, anche in città le cose non vanno meglio. Infatti il verde cittadino è abbandonato all'incuria con erba alta che impedisce di camminare tranquillamente sui marciapiedi per non parlare poi della presenza in centro storico di ratti, sinonimo di un pericolo sanitario reale e urgente. Nel comunicato la portavoce del Movimento 5 Stelle San Cataldo, Bernadette Arcarese, afferma Siamo profondamente preoccupati dalle segnalazioni che arrivano dai cittadini che lamentano un degrado della città che non si vedeva da anni.